Ok, siamo ancora a The Wall e stiamo ancora con uno dei vincitori di questo preziosissimo premio, Federica Bonaldi. Complimenti innanzitutto per questo premio, raccontaci di quale azienda fai parte e qual è il progetto con cui avete vinto questo riconoscimento. Sono Federica Bonaldi, responsabile marketing di Loomson SPA. Siamo molto lieti di aver vinto per la categoria Packaging Skincare Award questo premio. Siamo stati premiati per un semplicissimo microchip che viene inserito in alcuni dei nostri flaconi. In realtà un semplicissimo gesto spalanca le porte ad una infinità di funzioni, di obiettivi, spalanca le porte a un mondo di comunicazione, perché questo microchip permette di essere un eccellente sistema di antitaccheggio, un rivoluzionario sistema di antitaccheggio, ma soprattutto supera le barriere della limitatezza dello spazio all'interno di un flacone, perché il microchip può contenere veramente un mondo di informazioni sia sul prodotto, sia sul packaging e tutto quello che l'azienda vuole comunicare al mondo. Per cui abbiamo brevettato questa tecnologia, ancora non l'abbiamo sviluppata, ma siamo lietissimi di svilupparla con le aziende interessate. Beh, diciamo che il futuro è arrivato e abbiamo delle scatole parlanti? Assolutamente, su cui possiamo caricare veramente un'infinità di informazioni. Federica, sei stata chiarissima, ti vedo molto entusiasta di questo premio, immagino che sia il frutto di un duro lavoro. Complimenti ancora e ci vediamo l'anno prossimo. Assolutamente, grazie mille. Grazie a te.